allora mi strucco in diretta con lui finisco di struccarmi in diretta con lui e poi ovviamente mi lavo anche i denti e ci sentiamo domani mattina ok? niente tutto lì, ormai mi sto bella struccata infatti sono già un bel panda ma nulla di che, nulla di che nel senso che sono bella struccata mi sono struccata ovviamente non con i nuovi prodotti perché prima voglio terminare questo qua perché l'altro ovviamente l'ho terminato ovvero questo quasi questo qui della L'Oreal e niente ora mi risciacquo e poi mi lavo i denti grazie bene perfetto allora posso fare adesso si lavare i denti che avrò detto che mi lavo sempre questo del titolo veramente molto molto buono della colgate grazie a tutti va bene io mi ho lavato i denti intanto vi ho fatto una bella cammella ovviamente io ho dovuto prima di fare i video e niente sono pelli puliti i denti ora metto la mia crema e ce l'ho di là ce l'ho di là in camera ma mi posso anche mettere un'altra volentieri questa qua della nivea quanti sono 8 minuti no neanche 3 minuti qualcosa va benissimo ok ora io mi sistemo per la notte perché siamo di sera non so che penso che siamo passate o tre letto e mezza sto registrando sto video di sera ragazze sono arrivata che voglio fare un video all ma a stappunto lo faccio domani perché non lo so se riesci a farlo adesso domani è sabato si oggi venerdì quindi domani è sabato ok e niente like e ci vediamo domani mattina o non lo so quando forse domani appunto si e niente allora una ragazze un commento una attivare la campanella se quello da voi si iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video ciao presto ragazze un bacio tanto metto i miei fiori e non metto una mazza per chiudere il video ma sono arrivati a 4 minuti va benissimo ciao ciao